Ben ritrovati, oggi siamo in compagnia dell'avvocato Barbara Toce, delegata per le marche dell'associazione Le Donne del Marmo, che accoglie donne che lavorano in prima persona nel settore del marmo e delle relative tecnologie. Insomma, Barbara, parliamo di diverse professionalità che ruotano attorno alla pietra naturale. Qual è lo scopo della vostra associazione? Lo scopo di questa associazione innanzitutto è quello di valorizzare il ruolo della donna, perché in molte delle aziende che lavorano in questo settore ci sono dietro delle donne fantastiche. Quindi si tratta di aiutare e supportare proprio la professionalità che all'interno di queste aziende, a vario titolo, c'è della donna e in questo contesto creare una rete per far sì che queste donne possano dialogare tra di loro e anche col mondo esterno e quindi creare dei valori aggiunti rispetto alle loro attività. Ecco appunto, il ruolo della donna in questo settore è più che mai articolato e complesso. È articolato e complesso perché si va dalla produttrice di marmo a chi invece lavora sui macchinari legati al marmo, a chi ha delle lavorazioni legate al marmo, a chi come la Presidente Sara Vannucci ne ha creato anche un profilo completamente diverso creando una linea di profumi, i profumi del marmo, che stanno avendo un successo incredibile. Quindi ci sono varie professionalità che all'interno possono creare sinergia. La mia stessa figura, non sono una donna che lavora nel campo strettamente del marmo, ma ho collaborato per esempio all'interno dell'associazione per la registrazione del marchio, per tutta una serie di attività che sono a collaborazione proprio della specificità e delle attività che sono inerenti alla produzione stessa. Per quanto riguarda il nostro territorio, se può ricordarci magari qualche iniziativa particolare? Allora, il nostro territorio verrà coinvolto attivamente grazie anche all'interessamento del Dottor Contisciani, che è il Presidente del Bacidio Imbrifero, perché vogliamo assolutamente valorizzare il travertino piceno, quindi lavorare con le aziende del travertino e dare la possibilità a comuni come Acqua Santa e Ascoli Piceno a entrare un po' all'interno di questa rete di promozione di questo materiale che fa parte proprio del marmo. Per chi ci sta ascoltando e magari è interessato ad entrare a far parte di questa realtà, cosa deve fare? Soprattutto quali qualità deve avere? Non è che deve avere delle grossissime qualità, però se lavora nel campo della produzione del travertino, comunque sia di materiali affini a questo, o comunque sia con attività che sono adesso collegate o relazionate, mi può assolutamente contattare e di qui nascerà una bella collaborazione. Allora Barbara, abbiamo ancora del tempo a disposizione, se c'è qualcosa che vuole ancora divulgare le persone che ci stanno ascoltando? Allora, io credo che questa nostra realtà sia assolutamente poco conosciuta. Ascoli Piceno è considerata una delle più belle piazze d'Europa. Cerchiamo di valorizzarla anche dando un valore a chi produce questo materiale e cerchiamo veramente di saper cogliere all'interno di questo nostro territorio tutte le specificità e le peculiarità che ci possono far conoscere al mondo. Ecco, quindi le prossime imminenti iniziative? Covid permettendo con questa iniziativa, la prima iniziativa dovrebbe proprio essere quella di una collaborazione con il Bacino Embrifero e con le aziende del territorio. Avevamo già in mente con il Comune di Acquasanta una serie di iniziative anche per aiutare e supportare i comuni terremotati. Ora l'idea sarebbe quella anche di supportare, di entrare in relazione con il Comune di Ascoli Piceno che sta lavorando per la capitale della cultura e anche per un eventuale riconoscimento UNESCO. Quindi credo che questa associazione possa anche essere di supporto e di aiuto in questo percorso. Allora grazie a Barbara Toce, delegata per le Marche dell'Associazione Le Donne del Marmo. Io vi auguro buon proseguimento su Radio Azzurra.